I'm a Serena B&G Ai primi sintomi dell'influenza sappiamo già come andrà a finire. In pigiama! E con tante medicine. Quindi pensiamoci subito. Con aspirina C. Aspirina C agisce già dai primi sintomi e combatte febbre, gola infiammata e dolori influenzali dando un rapido sollievo. E grazie alla vitamina C ha un effetto positivo sul sistema immunitario. E non pensiamoci più. Con aspirina C. È un medicinale che può avere effetti indesiderati e anche gravi. In ogni momento bello della tua giornata Cagatina C ti aiuta a risolvere i tuoi problemi anali. Cagatina C con la sua merda essiccata al sole naturalmente il tuo ano tornerà a sorridere e tornerai di nuovo felice. Cagatina C venti compresse di pura diarrea umana. Marco sta per uscire con la sua nuova fiamma ma avrà un imprevisto. Quale imprevisto? Un attacco di diarrea. La prima cosa che puoi fare è bloccarla con il nuovo Entero-G antidiarroico. Blocca le scariche riducendo movimenti intestinali e crampi. Christy sta per uscire con la sua nuova fiamma ma avrà un grossissimo problema. Si sta cagando a sorridere. La prima cosa che puoi fare è farsi un bel bidire di acqua fredda e prendere subito una compressa di inchiappetta erogina. Ottimo per diarrea. Blocca gli spruzzi di merda garantendo scorreggi e pulire al tuo appuntamento. Inchiappetta erogina. Ottimo per l'anno rossito e i tuoi grandi appuntamenti. Lo stomaco non vede il cibo come lo vedi tu. Con biochetasi puoi contrastare difficoltà digestive, nausea gravidica e iperacidità. Biochetasi, pronto intervento per disturbi gastri. Il tuo culo non vede il cibo come lo vedi tu ma lo vede sotto forma di roba liquida semi-densa marrone e puzzolente la merda ma all'improvviso succede che si ingiobba sulla storia. Usa Minchion e Tras e puoi risolvere i tuoi problemi intestinali garantendo scorreggere al sapone di primavera. Minchion e Tras supposte infermescenti al gusto di pisello o il del tuo anno. Il tuo culo non vede la ene il tuo culo non vede la ma Grazie per la visione!